Italiani sempre più attratti per necessità o per virtù da sconti, promozioni e offerte. È gara tra gli scaffali dei supermercati alla ricerca della convenienza. A volte, anche a discapito della qualità, si cerca di risparmiare come si può. Un prodotto su quattro secondo Coldiretti, che ha analizzato i dati dell'Istat sul commercio al dettaglio relativi al 2019, viene acquistato in promozione con l'obiettivo di ridurre i costi del carrello. Questo i supermercati lo sanno benissimo e per massimizzare i guadagni, spesso a discapito dei fornitori, per effetto delle distorsioni e delle speculazioni che si verificano lungo la filiera, mettono sconti su prodotti di largo consumo, quelli che non possono mancare sulle tavole degli italiani. Prodotti calamita per i clienti, come conserve di pomodoro, pasta, olio d'oliva e vino, ad esempio. La tendenza a cercare il risparmio è evidenziata anche dal boom dei discount alimentari. Sempre più persone preferiscono infatti fare qui la spesa, un'abitudine cresciuta solo nell'ultimo anno, del 4,5%. Aumenta anche chi si affida allo shopping online, anche per fare la spesa. Nel 2019 i supermercati virtuali hanno fatto segnare un balzo nelle vendite, del 18,4% rispetto all'anno precedente, più 38,3% solo nel mese di dicembre, trainate dall'effetto natale.